Tre giorni per l'innovazione della scuola a Fiera Didacta 2019. Indire ha rappresentato la scuola del futuro facendo vivere direttamente agli insegnanti attraverso workshop dedicati alla primaria e alla secondaria l'efficacia di una didattica praticata all'interno di una nuova visione degli spazi di apprendimento, il modello 1 più 4 spazi educativi. La Gorà, il luogo della comunità per condividere eventi aperti anche al territorio. Lo spazio di gruppo per creare, presentare, collaborare, discutere, elaborare. Lo spazio informale e individuale per riflettere, leggere, scrivere, per riposarsi, parlare, ascoltare musica. Lo spazio esplorazione per l'osservazione, la sperimentazione, la manipolazione. Grazie a tutti. Il tempo fa un segno è nato, tutti noi lo abbiamo invitato. Sono felice di aver inventato e un orardo sono diventato. Dopo un lungo percorso di indagine e studio iniziato nel 2010, Indire ha elaborato il modello 1 più 4 spazi educativi, una proposta che suggerisce al mondo della scuola, ai professionisti del settore, agli enti locali, ai principi ai quali ispirarsi per progettare la scuola del futuro, per ridefinire un nuovo approccio dell'edilizia scolastica. Con questa organizzazione, chiamiamola nuova e innovativa degli spazi, cambia il metodo di fare scuola. L'obiettivo principale non è il punto di arrivo, il risultato finale ma il processo e oggi lo abbiamo sperimentato così con questo lavoro collaborativo. a presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.